E' in una prima posizione, non poteva che essere lui, con un tempo strepitoso perché la gara era ed è rimarratura anche per l'anno prossimo, anche se non ci sarà vento, con un vento così forte, con le salite che c'erano, un'ora, 11.46 per Ismail. E' la team, eccolo qua che arriva, e vi assicuro è arrivato di maniera neanche sudato. Allora andiamo.